Un ingente furto è stato compiuto ai danni del centro postale di Centicolella nella notte. Si tratta del centro postale operativo che si trova nella zona ovest della città. I banditi, una volta all'interno dei locali, sono riusciti ad aprire le cassaforti alla cassa continua. Si sta ancora definendo il bottino, ma ad una prima ricognizione si parla addirittura di circa 200.000 euro, tra valori bollati e altro. Sicuramente sono stati utilizzati dei frullini per tagliare cassa continua e cassaforte, tanto che sono intervenuti anche i vigili del fuoco, allertati da una dipendente per il forte odore di bruciato quando è entrata negli uffici. Sul posto la polizia postale e anche la squadra mobile. Un avviso comunica ai clienti che gli uffici resteranno chiusi a partire da oggi.